Siamo a Gerusalemme a Porta di Giaffa, in attesa del nuovo custode, il padre Francesco Patton. Si sta radunando la gente, i rappresentanti delle istituzioni cristiane di Gerusalemme e delle varie chiese, soprattutto i frati francescani in gran numero. L'attesa è grande e ogni nuovo custode porta immancabilmente un senso di novità, quella spinta al rinnovamento che fa parte della vita e ancor più della vita cristiana e consacrata. Per noi francescani tutte le volte che si rinnova questo incarico del custode di Terra Santa, è come un rinnovarsi anche della nostra stessa missione qui. L'essere custodi dei luoghi santi, dove Gesù ha vissuto e dove la salvezza è avvenuta nella storia, ecco questo custodire i luoghi santi fa parte del carisma francescano. E quindi il nuovo insediamento di un custode non fa altro che ricordare a noi frati e a tutti i cristiani della Terra Santa, ecco la loro stessa missione, che è quella di custodire questi luoghi della redenzione e di essere nel cuore della Chiesa. Padre Francesco Patton è arrivato, scende dall'auto, un saluto alle principali autorità venute per l'accoglienza e subito si forma il corteo. È sempre suggestivo vedere i mattieri e la lunga fila dei frati che accompagnano con il canto dell'Osanna l'ingresso del nuovo custode verso la Chiesa di San Salvatore. C'è aria di festa, la festa che merita un nuovo inizio. Alla porta è accolto dal guardiano del convento, padre Stefano, che gli porge il crocefisso per il bacio, e dal canto del tedeum entra nella Chiesa aspergendo i fedeli con l'acqua santa. Sull'altare il visitatore generale legge il decreto di nomina e il nuovo custode esprime la sua piena adesione alla fede cattolica e poi con la mano sui Vangeli il giuramento di fedeltà alla fede all'incarico ai sacri pastori. Io, fra Francesco Patton, credo e professo conferma fede tutte le simbole e le verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè, credo in un solo Dio, padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E il visitatore risponde investendole ufficialmente dell'autorità di custode di terra santa. C'è la consuetudine a questo punto della consegna del cosiddetto sigillo, con il quale il nuovo custode autenticherà tutte le sue autorevoli decisioni. Nel discorso di circostanza, padre Francesco Patton, partendo dallo stupore con cui ha accolto la proposta di essere custode, ha detto di aver accettato l'incarico con trepidazione e fiducia, innanzitutto nel Signore, che è il vero custode, e poi nel fatto di sentirsi accolto dagli altri frati come un nuovo ultimo fratello. E auguriamo a lui, con la presenza di tutto l'ordine, auguriamo un buon servizio, sicuramente come frate e come minore, e in questo tempo che ha bisogno sicuramente della fratellanza, con tutta questa realtà in Oriente, e lui mi pare che, ci pare che la scelta sia dell'ordine del governo generale, sia della Santa Sede, stata per incoraggiare questa presenza di fraternità, di un uomo che è capace del dialogo nella diversità. Per cui questo per noi è stato un momento molto significativo, oltre ad essere un nuovo custode, un custode che viene a un servizio nuovo per lui, nuovo per la custodia. La celebrazione di insediamento si conclude con l'abbraccio dei frati. Uno ad uno lo stringono in segno di obbedienza, ma soprattutto di amore, quell'amore fraterno che costituisce la forza, la pace e la simpatia di cui gode l'ordine francescano. Si apprezza il nome stesso del nuovo custode, che dopo Papa Francesco è diventato ancora più caro e significativo per i francescani. Un nome che ci ispira speranza e mi ha fatto subito pensare in questo evento bellissimo di accoglienza fraterna, di pensare come Gesù ha consegnato la chiave a Pietro e la fiducia è una fiducia che rinforza nella presenza. È entrato nella grandezza dell'ufficio, è entrato in modo molto semplice, fraterno. Ha chiesto l'accoglienza di fratello e l'accoglienza come Gesù Cristo chiede questa accoglienza a tante persone. In nome di tutti i cristiani qui in Terra Santa noi diciamo benvenuto, perché il tuo ruolo come custode rappresenta la Santa Sede ci fa onore, non soltanto a noi frati francescani, ma a tutta la Chiesa, in tutte le chiese che si trovano in Terra Santa. Nel Salone della Custodia si conclude con un rinfresco in mezzo alla rumorosa gioia del momento di festa. Già si pensa alle decisioni del nuovo superiore, ma senza timore, anzi con la speranza di averlo per primi nel campo di lavoro affidato ad ogni francescano. Soprattutto una grande gioia per noi francescani che accogliamo il nostro nuovo superiore, almeno per i prossimi sei anni speriamo. Io che vivo ad Acre per esempio vengo a rappresentare la città anche. Acre, San Giovanni d'Acre è la porta del francescanesimo, dove c'è stato il primo convento. L'anno prossimo ci saranno, festeggeremo gli 800 anni della fondazione del primo convento e fra due anni ci sarà il giubileo dell'arrivo di San Francesco. Quindi a buon ragione riteniamo che il primo convento che dovrebbe visitare il nuovo padre custode dovrebbe essere il convento di San Giovanni d'Acre, la comunità e i problemi cristiani che abbiamo a San Giovanni d'Acre. Abbiamo cantato Osanna al padre custode che entra dentro le mura della città e arriva nella chiesa di San Salvatore dove incontra i suoi frati. Questo è una cosa molto suggestiva, bisogna dirlo. Poi per quanto mi riguarda, essendo decano dello studium biblicum franciscanum, devo dire che il padre custode conosce poco la Terra Santa, ma conosce molto bene lo studium. Infatti nelle due volte che è venuto in Terra Santa la sua visita ha avuto sempre a che fare con lo studio biblico. Di questo gli siamo grati e speriamo di poter collaborare per quello che possiamo con lui. In mezzo a tutti gli altri, trasmettendo un vero senso di fraternità, padre Francesco Patton, originario di Trento, ribadisce i sentimenti che lo stanno accompagnando in questi giorni. Sì, io ho parlato di una nuova vocazione perché anche arrivato dopo una lunga esperienza di governo e di servizio in provincia e anche per l'ordine pensavo che avrei avuto modo per un po' di tempo di vivere anche la vita del frate normale. Pensavo di poter tornare alla pastorale, alla predicazione, a fare le cose che so fare. E invece è arrivata questa chiamata, perché di fatto è stata una richiesta di assumere un servizio nuovo. Per me inizialmente in italiano ho usato la parola trepidazione. Trepidazione non vuol dire avere paura. Trepidazione vuol dire mi rendo conto che mi viene chiesto un servizio grande e che sicuramente non posso svolgere con le mie sole forze. Trepidazione è quello che noi abbiamo quando ci rendiamo conto che è Dio a chiedersi qualcosa. E al tempo stesso per questo ho detto che c'è anche fiducia da parte mia, perché appunto se è volontà del Signore che svolga questo servizio sarà anche Lui a guidarmi, ad aiutarmi, a sostenermi. In realtà io confido molto anche sull'aiuto dei frati della custodia di Terra Santa. Io sono venuto qui in primo luogo per loro e anche questo pomeriggio, quando ho ricordato il significato dell'abbraccio di pace, ho ricordato che l'abbraccio di pace noi lo riceviamo come gesto di accoglienza della fraternità nella prima professione. E per me questo è come fare nuovamente la mia professione di vivere il Vangelo in obbedienza senza nulla di proprio e castità in questa nuova fraternità. E questa da oggi, da oggi, è la mia nuova fraternità. E per me questo è il Vangelo in obbedienza senza nulla di più.